Musica Amici sportivi appassionati di calcio a 5, buonasera e benvenuti al campo sportivo di Anzio. L'ultima giornata di campionato, il campionato femminile serie D, girone B, sono di fronte alle nostre telecamere, le due formazioni che daranno vita a questo importante confronto e sono Lanzio Lavinio in maglia arancione e la polisportiva Ostiense in maglia. Il mese laterale è già battuta con Mellal che perde questo pallone in maniera sanguinosa, attenzione a questo tiro da parte di Fabiana Vattone, attenzione a Mellal, pericolo numero 1 per la difesa dell'Anzio Lavinio. Prova intanto questo tiro improvviso, Roberta Di Stefano si distende, ancora lo Stiense, va a cacciare in porta, un attiro sicuramente pericoloso da parte di Giulia Pericoli. Altro bel intervento da parte del portiere dell'Anzio Lavinio, pallone che nessuna delle sue compagnie di squadra è riuscita a catturare. Ancora lo Stiense, buon momento adesso per la formazione ospite, tiro in porta e arriva il gol dell'1-0, era nell'aria. Ha segnato con questa stafilata Giulia Pericoli. A Roberta Di Stefano ancora lo Stiense, se la cava benissimo e mette adesso D'Area Celeste in condizione di segnare, grande occasione. L'Anzio Lavinio che prova a proporsi in avanti Giulia Aiello, conclusione violenta. L'Anzio Lavinio che adesso sta cercando di stringere un po' i tempi, ancora il tiro di punta, preciso, chirurgico, sul secondo palo da parte di Giulia Aiello che timbra il pari con questa bella iniziativa. L'Anzio Lavinio che può ripartire con Vattone, buon lancio intanto per Giulia Aiello che lavora benissimo il pallone, calcia in porta, che bel tiro da parte di Giulia Aiello. Si proverà a costruire con uno schema il tiro, infatti proprio questa seconda opzione viene presa in considerazione, ancora Aiello il tiro e il pallone che termina in fondo al sacco, un'azione corale spettacolare da parte dell'Anzio Lavinio. Ovvero ubicua questa giocatrice, un po' dappertutto rischia il portiere dell'Anzio Lavinio, il pallone stava per varcare la linea di porta. L'Anzio Lavinio che poi si propone in avanti con questa barcatura, ancora una volta da parte di Fabiana Vattone che a tu per tu con il portiere avversario riesce a trafiggerlo con questo perfetto diagonale. 3-1 dunque per l'Anzio Lavinio, ricomincia con il fallo laterale in favore dell'Ostiense. Calcia in porta ed è un gran gol, quello partorito dal piede destro di Giulia Pericoli che riapre dunque la partita. Ancora in costante pressione la squadra ospite, altro tiro. Poi ancora Immacolata Ruzza che si ferma e serve la giocatrice, finora grande protagonista di questo match, Giulia Aiello. Ancora un tiro pericoloso che è terminato sul fondo, adesso però deve tornare velocemente in difesa. Ancora un pallone che è stato conquistato da Giulia Pericoli. 3-1, qui c'è una grande chance e va dunque a segno. Santa Volponi che non poteva sbagliare, da distanza molto ravvicinata. È stato interrotto il suo tentativo, ancora Mellal, molto aggressiva. E qui c'è un intervento spettacolare da parte del portiere Roberta Maglione. Scucchietta in avanti, ha cercato di agganciare il pallone difficile, vattone. È già dall'altra parte però l'Ostiense. Attenzione adesso sulla destra a questo tentativo. Vincente da parte di Alessia Trincia, persa completamente dalla retroguardia di Anzio Lavinio. e dunque l'Ostiense clamorosamente si riporta in vantaggio. Roberta Di Stefano. Attenzione a questo tiro di punta improvviso da parte di Roberta Di Stefano. L'Ostiense che adesso è costretta a indietreggiare. Pallone intelligente dato a Zaccone. Ancora una situazione di 2 contro 1 e questa volta di piatto fallisce una colossale opportunità da rete Alessia Trincia. Ancora Giulia Aiello. Attenzione può colpire con il sinistro. Calcia di prima intenzione ma non trova però il bersaglio. La situazione di campo intanto adesso ruba nuovamente questo pallone. La formazione dell'Ostiense che può adesso infliggere il colpo del K.O. Cosa che fa in maniera davvero spettacolare con la rete di Ilenia Todisco. Parte Giulia Aiello. Il tiro violento si infila. Ancora la rete da parte di Giulia Aiello che ha letteralmente abbattuto una delle tre giocatrici dell'Ostiense. Calcio d'angolo con Luisa Mellal. Pronta la battuta. Tiro in porta improvviso ancora da parte di Giulia Pericoli. Bella parata di Roberta Maglione. Pallone guadagnato da Luisa Mellal. All'indietro arriva questo lancio in profondità. Sulla destra è tutta sola Michela Zaccone che riesce di piatto destro a trasformare in oro questa azione corale. Ben congegnata, ben costruita. E dunque la polisportiva Ostiense trova il gol del 6 a 4. Il dettore di gara che guarda più volte il cronometro. Alla fine sì, arriva il trebice fischio. Al termine di questo splendido confronto. Dobbiamo dire molto combattuto che la formazione dell'Ostiense ha vinto per 6 redi a 4 contro l'Anzio Lavigno. Anzio Lavigno che era stata protagonista di un eccellente primo tempo ma nel secondo tempo è calata. La forza, l'intensità della scuola di casa è uscita di prepotenza l'Ostiense che dunque scippa il secondo posto in classifica alla formazione in maglia orange. Ed è tutto dunque da Anzio un cordiale saluto e ringraziamento da Enrico Vascuali Coluzzi e da Valerio Di Prospero che ha operato le riprese televisive.